l'incidente mortale poco dopo le 12 di oggi incontrato a San Bartolo in territorio di Vittoria la dinamica ancora al vaglio della polizia municipale pare si tratti di un incidente autonomo la vittima un 69enne ciclitano ha perso il controllo dell'auto il commissario dell'ASP7 Salvatore Lucio Ficarra risponde sul caso Bonomo trasferito al dipartimento di Ragusa dopo l'apertura del pronto soccorso di Monica secondo Ficarra il trasferimento fa parte di giri dirigenziali si celebra oggi il 72esimo anniversario dell'autonomia siciliana il presidente Nello Musumeci ha divulgato il suo messaggio ai siciliani lo statuto doveva essere una prerogativa per tutti invece è stato un privilegio per pochi ieri pomeriggio è stato inaugurato il campetto di palacanestro al centro polifunzionale di Viale Napoleone con la Ianni a Ragusa alla presenza del prefetto Filippina Cocuzza e del sindaco Federico Piccito Buon pomeriggio e bentrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione di MTG grazie per seguirci in apertura parliamo purtroppo della cronaca perché un incidente mortale si è verificato poco dopo le 12 di oggi in contrada San Bartolo in territorio di Vittoria la dinamica è ancora al vaglio della Polizia Municipale intervenuta sul posto pare si sia trattato di un incidente autonomo probabilmente la vittima ha perso il controllo del mezzo per l'asfalto viscido a causa della pioggia andando a impattare con la propria auto contro un palo a perdere la vita un uomo uno sciclitano di 69 anni le cui generalità però non sono ancora state diffuse dagli inquirenti e voltiamo pagina perché dopo una settimana di silenzio il commissario dell'ASP Salvatore Lucio Ficarra risponde sul caso Bonomo trasferito al dipartimento di Ragusa dopo l'apertura del pronto soccorso del maggiore di Modica secondo Ficarra il trasferimento farebbe parte di un usuale giro giri dirigenziali di routine mentre è molto chiaro sul rapporto politica e sanità. I dettagli? L'inaugurazione del pronto soccorso di Modica noi non l'abbiamo fatta perché ritenevamo secondo le diciamo le logiche nuove che si doveva semplicemente aprire verificare i funzionamenti certamente una struttura bellissima su cui voglio ricordare che la firma l'abbiamo messo solo io l'ingegnere Aprile e il mio predecessore il dottore Aricò perché qua se dobbiamo sfadare un mito quando le cose non funzionano la colpa è nostra quando invece funzionano invece il medito è di altri quindi solo questi tre abbiamo firmato oltre ovviamente chi aveva aborigine concesso il finanziamento per cui il pronto soccorso è stato aperto il dottore Bonomo è il direttore sanitario dell'ospedale noi non abbiamo ritenuto di rilasciare nessuna dichiarazione in merito perché sono atti interni nell'azienda per cui ognuno può fare i commenti che vuole ma anche in questo caso la norma dice chi è che nomina i dirigenti. Risponde così il commissario dell'ASP Salvatore Lucio Ficarra dopo il caso Bonomo scoppiato all'ospedale maggiore di Modica lo ha fatto oggi dopo quasi una settimana di silenzio Ficarra in questi giorni non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione sul trasferimento di Piero Bonomo al dipartimento di Ragusa che sarebbe scaturito per l'apertura del nuovo pronto soccorso lo scorso 21 aprile quando non erano presenti i vertici provinciali dell'ASP. Per quanto riguarda dunque il trasferimento del dottore Piero Bonomo Ficarra risponde così. Considerate che esiste una norma sulla rotazione degli incarichi dirigenziali molti dirigenti già hanno ruotato a cominciare per esempio dall'ingegnere Aprile che prima era il capo dell'ufficio tecnico era il direttore amministrativo degli ospedali di Modica e Scicli così come il nuovo capo dell'ufficio tecnico i capi del personale eccetera eccetera e nessuno ne ha mai parlato non capisco perché si debba parlare del dottore Bonomo. Era stato il sindaco di Modica Ignazio Abbate ricandidato alla poltrona di primo cittadino a Modica a volere fortemente l'apertura del nuovo pronto soccorso dell'ospedale senza nessun preavviso lo scorso 21 aprile aveva convocato la stampa davanti ai locali del pronto soccorso annunciando l'ufficiale apertura dei locali accanto a lui tra gli altri anche il direttore Piero Bonomo. Ficarra è stato molto chiaro sulle inaugurazioni nel periodo di campagna elettorale. Insomma chi fa politica deve stare fuori dalla sanità e noi siamo in questa logica per cui nei territori in cui ci sono le elezioni non faremo inaugurazioni. E parliamo ancora di sanità perché respinge gli attacchi personali e la CGL replica al duro attacco sferrato dal commissario Salvatore Lucio Ficarra della Pset dopo il sit-in del 10 maggio scorso proposto tra gli altri dalla CGL per contestare l'operato dei vertici dell'azienda sanitaria. Dettagli. Replicano le accuse e respingono gli attacchi personali vertici della CGL che oggi hanno convocato i giornalisti per controbattere a quello che è stato considerato uno scomposto e ingiustificato. Monologo contro il segretario provinciale della funzione pubblica della CGL Iblea Salvatore Schembari da parte del commissario dell'Asp7 Salvatore Lucio Ficarra subito dopo il sit-in che si è svolto davanti la sede dell'azienda sanitaria il 10 maggio scorso a cui hanno partecipato alcuni precari nonché altre sigle sindacali. Noi non ci saremmo aspettati mai da un manager l'utilizzo di un linguaggio veramente offensivo nei confronti dell'azione sindacale soprattutto della CGL. Quindi noi respingiamo con forza un po' questi atteggiamenti. Lanciamo un messaggio al commissario che siamo sempre disponibili al dialogo. Su questo noi ci faremo parte in causa con l'assessore regionale alla sanità proprio perché intendiamo sulla vicenda di Ragusa fare chiarezza. Noi abbiamo rivendicato, continuiamo a rivendicare la nostra azione sindacale che è quella della concertazione e del confronto che in questi mesi con la gestione del commissario è mancata. Quindi noi vogliamo che venga avviato un tavolo serio di confronto, questo lo faremo nel tavolo regionale nei prossimi giorni in cui siamo stati convocati dall'assessore proprio perché intendiamo sulle questioni che afferiscono gli organici la rimodulazione della pianta organica dell'azienda sanitaria di Ragusa un confronto serio perché vogliamo dare risposte ai lavoratori e vogliamo dare anche risposte all'utenza e ai cittadini che certamente hanno bisogno di una sanità migliore. Oggi alla presenza del massimo esponente regionale si è anche fatto il punto sul taglio di 340 posti nella dotazione organica dell'ASP che secondo la Camera territoriale non garantisce i livelli minimi assistenziali. Accusano il manager di aver effettuato i tagli imposti dalla regione senza le rappresentanze sindacali. Passaggio secondo il sindacato obbligatorio perché si riducono i posti di lavoro. Noi non capiamo come mai nelle pieghe anche dei bilanci perché noi vogliamo capire un po' anche il bilancio e le somme che sono state messe a disposizione per quanto riguarda la gestione anche delle stabilizzazioni dei concorsi. Noi riteniamo che c'è una carenza in pianta organica che vada colmata. Non capiamo come mai questi ritardi e come mai non si avvia un confronto serio perché riteniamo che il confronto sindacale, l'azione sindacale debba essere finalizzata a dare quelle risposte ai lavoratori soprattutto a chi da mesi e da anni aspetta la stabilizzazione. Arrestati due pozzalesi, arresti che si vanno ad aggiungere all'operazione Pozzallo Sicura, i cui dettagli sono stati presentati ieri in conferenza stampa. Continuano i servizi di controllo dei carabinieri della compagnia di Modica sul territorio. Nel corso della giornata di ieri a Pozzallo sono stati assicurati alla giustizia altri due soggetti nell'ambito dell'operazione Pozzallo Sicura, i cui dettagli sono stati illustrati ieri in conferenza stampa in occasione di due arresti. Arrestati altri due soggetti, già da tempo monitorati dai militari dell'arma. Nella mattinata di ieri è stato tratto in arresto Pietro Marino, 60 anni, pozzallese, che dovrà rispondere dell'accusa di evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo si trovava di domiciliari a seguito di un recente arresto per atti persecutori. Marino aveva tentato di bruciare la casa di un suo rivale in amore. Dopo averlo colto al passeggiare indisturbato per le vie della cittadina, i carabinieri delle stazioni di Pozzallo e Marina di Modica lo hanno tratto in arresto in flagranza e sottoposto agli arresti a disposizione dell'autorità giudiziaria eblea. Nel pomeriggio di ieri l'operazione condotta dai militari delle due stazioni ha permesso di arrestare un altro pozzallese, i cui movimenti erano seguiti da tempo dai carabinieri perché attirava diversi assuntori di sostanze stupefacenti. Si tratta di Angelo Lucenti con precedenti, 25 anni, che dovrà rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Dopo averlo fermato in strada è scattata la perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire circa 20 grammi di hashish già pronta per essere tagliata e spacciata e circa 200 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio. La droga immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 2.000 euro. La polizia ha fermato uno scafista tunisino ritenuto responsabile dello sbarco di sabato scorso a Pozzallo con 111 migranti. Si tratta di Ben Dohao Ausem, 29 anni, già arrestato dalla squadra mobile di Ragusa nel mese di ottobre 2017 per lo stesso reato, poi espulso e condotto in Tunisia. Inoltre la squadra mobile di Ragusa ha arrestato per violenza pubblica ufficiale un altro tunisino che ha dato una testata a un poliziotto del reparto mobile per sottrarsi ai controlli. Inoltre a seguito di complessi accertamenti investigativi su numerosi migranti già espulsi in passato dal nostro territorio, sono stati arrestati altri sei tunisini, 5 per aver fatto ingresso in Italia dopo una prima espulsione e uno per espiazione appena a seguito di reati commessi in passato sul nostro territorio. Veronica Panarello ha diritto ad avere informazioni e immagini sul suo secondo genito, il fratello minore di Loris, che la donna è accusata di aver ucciso e per questo condannata in primo grado a 30 anni di reclusione. Lo ha deciso la sezione famiglia della Corte d'Appello di Catania che ha accolto il reclamo del legale della donna contro la decisione del gennaio scorso che vietava qualsiasi contatto a Veronica Panarello con il suo secondo genito perché detenuta e perché per il rapporto familiare conflittuale. Adesso il collegio ha accolto il reclamo e pendente il processo di secondo grado davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Catania. Lo statuto doveva essere una prerogativa per tutti e invece è stato un privilegio per pochi. È un passaggio del messaggio del governatore Nello Musumeci in occasione del 72esimo anniversario dell'autonomia siciliana. Era il 15 maggio del 1946 quando Re Umberto II emanò lo statuto della regione siciliana dopo anni di lotte di sangue coronando aspirazioni antiche mai sopite. A distanza di 72 anni lo statuto siciliano viene ancora oggi celebrato e festeggiato dai siciliani. Il presidente della regione Nello Musumeci ha infatti divulgato il suo messaggio rivolto ai siciliani. Ebbene dopo oltre 70 anni ha detto la Sicilia rimane ancora fra le terre italiane più povere. È non certo per colpa dell'autonomia ma di quanti ne hanno fatto un uso distorto e spregiudicato. Lo statuto doveva essere una prerogativa per tutti e invece è stato un privilegio per pochi. Il cinico e famelico centralismo romano ha fatto l'arresto, ha detto Musumeci, con norme statutarie, inapplicate e sacrosanti diritti negati, spesso con la complicità di chi, eletto in Sicilia, avrebbe dovuto difenderla anziché svenderla nei palazzi di Roma. Non serve adesso ricercare responsabilità che appartengono, seppure in misura diversa, a tutte le classi dirigenti e politiche avvicendatesi in questo lungo periodo alla guida della regione e sui banchi dell'Assemblea regionale siciliana. Dobbiamo guardare avanti con rinnovata fiducia. Lavoriamo insieme, ha detto ancora il Governatore. Il Governo, i deputati di tutti i gruppi, l'apparato burocratico, ciascun cittadino, in questo grande cantiere Sicilia, per ridare coraggio alle imprese, futuro ai giovani, diritti ai più deboli, speranza ai rassegnati, per ritrovare insomma l'orgoglio di essere siciliani e la forza di risalire la china. E con questo spirito che intendiamo riaprire un serrato e vigile confronto con il nuovo Governo nazionale, ha aggiunto Nello Musumeci, al quale vogliamo presentarci a testa alta, senza sciocchi rivendicazionismi e senza complessi di colpa, forti anche di un mandato del Parlamento regionale, che, sono certo, non avrà motivo di dividersi sugli interessi legittimi dell'isola. Solo così potremo onorare l'impegno dei nostri padri fondatori ed essere almeno certi che questi 72 anni, fra poche luci e molte ombre, non siano trascorsi in vano. In serata poi festeggiamenti ad Agrigento, città che ospita le celebrazioni del 72esimo anniversario dello statuto siciliano. Nella Valle dei Templi una seduta di giunte, successivamente all'aperto il concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, davanti ai deputati, ai sindaci dell'isola e ad altre autorità. E da Palermo ci spostiamo a Pozzallo per parlare di un argomento che sta suscitando molte polemiche, l'istituzione delle strisce blu. C'è chi si schiera a favore dell'amministrazione, facendo notare che si tratta di civiltà per un servizio del genere, e poi chi invece ne condanna l'operato. Ce ne parla Marco Scavino. Una polemica nata e cresciuta sui social, dove a colpi di commenti c'è chi si schiera a favore dell'amministrazione e chi invece ne condanna l'operato. Un film già visto, insomma, e che questa volta ha per trama le strisce blu. Siamo a Pozzallo, dove a scatenare la polemica è stata la pubblicazione di un comunicato stampa con i dettagli della nuova realtà in città. Da lì i pozzallesi hanno da una parte sfocato la propria ira nei confronti del provvedimento e, dall'altra, hanno fatto notare come già in altre città ci fosse il provvedimento e che la polemica dunque risultava essere sterile. Sterile o no, i cittadini, stando ai commenti sui social, si sono divisi. C'è chi sostiene che il servizio è iniziato per compensare le spese del comune di Pozzallo, in riferimento alle recenti manutenzioni di arterie, e chi invece fa notare che si tratta di civiltà avere un servizio del genere. A chiarire i contorni della vicenda, il sindaco Roberto Ammatuna. In un post si legge che il servizio è stato esternalizzato e che durante le operazioni di selezione del personale sarebbero state escluse alcune persone. In particolare, ad essere destinatario dell'esclusione sarebbe stato, si legge nel post, un diversamente abile, già in forza come ausiliare in passato. Ammatuna, però, in riferimento a questo fattore, ha chiarito che non è di competenza del comune la selezione del personale e che non conosce il caso e dunque non commenta in quanto non di sua competenza. Il primo cittadino però non entra nella polemica e chiarisce i contorni del servizio. La polemica mi pare che sia il sale della democrazia, se c'è qualcosa che non funziona si può anche aggiustare, però è inevitabile che una città che avrà tantissima confusione turisti alla prossima stagione estiva, che ormai già è le porte, non può non avere delle soste più ordinate, delle soste a pagamento ed è quello che noi abbiamo fatto. Se c'è qualcosa da aggiustare, tenteremo di farle, sempre discutendo e parlando con tutti i cittadini, ma era indispensabile farle partire il più presto possibile. E' un valido esempio di integrazione la struttura del centro polifunzionale di Viale Napoleone Colaianni a Ragusa. Sul tema concordano sia il prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza che il sindaco Federico Piccitto. Lo hanno dichiarato ieri nel corso dell'inaugurazione del campetto da basket. La valenza educativa della struttura del polifunzionale di Viale Napoleone Colaianni a Ragusa come esempio di collaborazione tra Comune e Ministero degli Interni. Il campetto di Palacanestro, creato nell'area antistante al centro polifunzionale, è stato inaugurato ieri pomeriggio alla presenza del prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza e del sindaco Federico Piccitto. Ha un significato altissimo. Intanto parlano i bambini, le ragazzine anzi, perché ho visto che sono tutte bimbe. Un significato di forte e concreta integrazione. Integrazione sociale dei minori immigrati con il tessuto sociale della provincia e soprattutto di grande sinergia tra le istituzioni, perché questo centro è realizzato con la collaborazione e i finanziamenti del Ministero, progetti PON, progetti FAMI, ma con la collaborazione dell'amministrazione comunale e questo proprio testimonia la bontà e il vero significato della collaborazione interistituzionale che è sempre vincente. Apriamo ufficialmente questo campo di Palacanestro, è stato costruito e realizzato qui al centro di Via Collaianne, che è sempre più un punto di riferimento per i migranti, con tutti i servizi che già eroga. Questo è un bel esempio di come si è realizzata una struttura e si sono fatti anche i servizi all'interno della struttura. Questo credo sia uno dei modi più belli di poter fare l'integrazione, vivere lo sport e i momenti di ricreazione insieme. Il campo è stato finanziato in virtù di un progetto a valere sul Fondo FAMI, Fondo Silo Migrazione e Integrazione del Ministero dell'Interno, denominato i minori del centro. A seguito della cerimonia di inaugurazione, il saluto del prefetto nell'auditorium del polifunzionale gremito di soci dell'Uni3. La sicurezza dei consumatori è questo l'obiettivo dell'ASPE di Catania che ha dato vita a un piano alimentare di controllo sul ghiaccio alimentare che regolamenta la produzione di ghiaccio sia industriale che in autonomia da parte dei gestori di bar e ristoranti. L'ASPE di Catania ha avviato un piano regionale di controllo ufficiale sul ghiaccio alimentare. Tale piano, attivato all'assessorato regionale alla salute, prevede l'effettuazione da parte del personale del servizio igiene, alimenti e nutrizione delle aziende sanitarie provinciali di un articolato programma di campionamento e di analisi del ghiaccio, sia in fase di produzione industriale che in fase di autoproduzione da parte di bar e servizi di ristorazione sull'acqua utilizzata per produrre il ghiaccio e su ghiaccio stesso. Con l'incontro svolto su ieri pomeriggio, l'ASPE di Catania dunque intende promuovere un'attività di informazione specifica e di assistenza agli esercenti sulla corretta prassi finalizzata all'ammiglioramento continuo della qualità del ghiaccio fornito ai consumatori e all'inalzamento dei livelli di sicurezza alimentare. Inoltre sono stati presentati dati preliminari sul monitoraggio sperimentale sulla qualità del ghiaccio alimentare svolto all'ASPE di Palermo ed è stata proposta anche la checklist condivisa con l'ASPE di Catania che consente agli esercenti di verificare eventuali criticità presenti nella fase di autoproduzione di ghiaccio alimentare e di adottare agevolmente i correttivi necessari avvalendosi delle indicazioni sia del personale dell'ASPE di Catania sia del manuale di corretta prassi operativa per la produzione di ghiaccio alimentare validato al Ministero della Salute che verrà messo gratuitamente a disposizione di tutti gli esercenti. L'incontro informativo ha messo a punto quelle che potrebbero essere le criticità nell'autoproduzione di ghiaccio da parte dei bar. Da una parte ovviamente l'utilizzo di un'acqua controllata il che è un dato di fatto perché l'acqua dei bar è normalmente controllata ma grande attenzione a quelle che sono le macchine di autoproduzione del ghiaccio che hanno necessità di una continua e specifica manutenzione. Abbiamo riscontrato delle non conformità tipo microbiologico che naturalmente ci mettono nelle condizioni di dover intervenire. Come regione siciliana siamo stati la prima regione ad effettuare un piano di controllo ufficiale sul ghiaccio alimentare, cioè sul ghiaccio destinato a essere ingerito e prima di partire con i controlli ufficiali presso l'ASPE di Catania è stato effettuato questo, si è svolto questo incontro con i produttori, con gli autoproduttori. Adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria. MTG torna tra poco. Bentrovati in studio. Si chiama YouPol, l'app presentata questa mattina in questura, l'app della polizia che consente di inviare segnalazioni in caso in cui si è stato testimoni di atti di bullismo. Inviare segnalazioni alla sala operativa della questura anche in forma anonima se si è testimoni o si è venuti a conoscenza di episodi di bullismo o traffico di stupefacenti. E quanto consentirà la nuova app della polizia di Stato denominata YouPol che sarà attiva dal 15 maggio prossimo. Oggi la presentazione è ufficiale in questura. L'app sarà scaricabile direttamente sullo smartphone e da Apple Store e Play Store. YouPol nasce per consentire ad ogni cittadino giovane e meno giovane di concorrere al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita. È gratuita e possono segnalare alla polizia di Stato con dei messaggi allegando anche una foto fenomeni di spaccio e di bullismo. È importante questa applicazione perché prevede anche la geolocalizzazione del telefono cellulare segnalante e quindi anche permette nel caso ci sia una necessità urgente di immediatamente portarsi sul luogo della segnalazione. Si può fare la segnalazione anche in forma anonima non necessariamente registrandosi? Questo è importante. L'utente può decidere sia di registrarsi e quindi dando i propri dati, il proprio numero telefonico, il proprio nome e il cognome, ma anche segnalare ad anonimo questi fenomeni. Ciò è importante proprio per evitare qualsiasi forma di condizionamento dei giovani o dei meno giovani e far emergere tutte quelle situazioni che rimangono nell'ombra, situazioni di bullismo, situazioni anche di spaccio, di uso di sostanze stupefacenti che provano anche in molti casi marginazione e sofferenze. Quindi è importante questa ulteriore possibilità che costituisce un elemento ulteriore informativo per la Polizia di Stato e che permette l'intervento in qualsiasi situazione segnalata. Com'è cambiata la legge sulla privacy? I mutamenti ancora in corso in relazione all'intervento dell'Unione Europea al centro di un convegno svoltosi a Enna. Ance Giovani di Enna, un'impresa Enna Caltanissetta, ordine dei commercialisti di Enna e ordine dei consulenti e il lavoro sempre di Enna, si sono riuniti per fare il punto sulle tematiche più attuali che è messo nel volto della privacy, ma nel contempo dare diretti interessati un'informativa il più possibile chiara. sul piano sanzionatorio e pratico operativo da parte degli specialisti sulla materia. Già le imprese hanno i loro problemi perché c'è una crisi nella nostra provincia che tante imprese hanno difficoltà nel trovare lavoro eccetera eccetera. Dobbiamo metterci anche in regola su queste cose perché è normale che la comunità europea e a livello nazionale dobbiamo metterci in regola perché ci sono sanzioni pesanti per quanto riguarda di chi non ci mette in regola nel discorso della privacy. Tra i temi trattati è stato dato un non contributo complessivo sulla ricostruzione storica del regolamento a partire dagli anni 90 con la legge 675-96 seguita alla nascita del decreto legislativo 196-2003 per parlare dei lavori del Consiglio dell'Unione Europea che hanno portato all'attuale decreto legislativo 679-16 con l'intervento del professore Alessandro Tomaselli, docente a contratto presso l'Università Core di Enna. L'avvocato Andrea Omar Bianco, esperto in materia, ha ricostruito invece le novità sul piano degli adempimenti, dei diritti e dei doveri introdotti alla normativa, riprendendo il nuovo organo in gramma della privacy e approfondendo profili e compiti. La normativa ha un effetto da un lato positivo e da un lato negativo. L'effetto positivo è quello di andare a ripristinare quello che erano i principi del codice che ancora oggi c'è del 2003. Quello negativo ovviamente è quello che i titolari o i responsabili del trattamento sono fortemente responsabilizzati quindi dovranno necessariamente conformarsi appieno a tutte le disposizioni del regolamento per evitare sanzioni che hanno una forte incidenza a livello non solo di pubblicità ma anche a livello prettamente economico. Adesso parliamo di cultura ma anche di storia perché è stato presentato il libro inerente alla storia dell'ente liceo convitto di modiche anche degli dati presenti in archivio. Abbiamo messo a disposizione della cittadinanza il volume Società, Cultura e Territorio che è tratto dalle carte inedite dell'ente liceo convitto. L'ente liceo convitto ha un archivio che ancora non è stato tutto studiato, ci sono circa 59 volumi di miscellane. Scritto dalle docenti Elena Frasca e Stefania Sinardo, il libro è stato presentato sabato scorso all'ente liceo convitto di modica, protagonista del volume proprio l'ente morale autonomo, antica istituzione con finalità di promozione sociale e culturale e di fonti inedite riguardanti la fondazione e i primi anni di vita dell'ente. Periodo di riferimento tra il XIX e il XX secolo, l'analisi degli statuti, l'approfondimento degli aspetti patrimoniali e l'esame minuzioso delle strategie di gestione socio-economica congiuntamente allo studio di documenti di prima mano conservati presso l'archivio dell'ente. Un primo e significativo step di una riflessione storica e documentaria che risalva ulteriori e pregnanti spunti di ricerca. È la micro storia che si inserisce nella macro storia. In questo volume parliamo proprio della nascita del convitto, quindi la nascita del convitto che c'è stata dopo l'unità d'Italia, quindi si intreccia la legislazione nazionale con le esigenze locali. Quello che accadeva in quel tempo dove effettivamente il concetto di istruzione, di formazione era importantissimo ma d'altra parte era necessario perché dopo l'unità d'Italia è vero che avevamo fatto l'Italia ma dovevamo fare gli italiani e quindi i convittori erano i nuovi patrioti, cittadini di questa unità nazionale. Inizieranno sabato prossimo ai Ragusa Ibla, il weekend del gusto, which is il Ragusa Nodop e i formaggi Iblaia, l'iniziativa presentata questa mattina nel quartiere Barocco. Via sabato prossimo il weekend del gusto a Ragusa Ibla, which is il Ragusano Nodop e i formaggi Iblei. Primo appuntamento nostrano Ibla Food Fest, il brand contenitore dentro il quale sono inserite le iniziative dedicate al cibo e alle tipicità della terra eblea. Oggi presentiamo il cartellone legato al gusto che è stato pensato dal centro commerciale naturale Antica Ibla quest'anno e raccoglie tre weekend. Il primo che presentiamo oggi in conferenza stampa, il Wee Cheese, il Ragusano Nodop e i formaggi Iblei che sarà il prossimo weekend 18, 19 e 20 maggio qui su Ragusa Ibla. E poi a continuare il Cerasuolo Ibla Party realizzato dalle strade del vino del Cerasuolo di Vittoria. E poi continuiamo a settembre con l'Ibla Street Food, l'1 e il 2 settembre. Sul Libla Street Food puntiamo molto visto il successo riscosso lo scorso anno. Scendendo nei particolari della programmazione del prossimo weekend vi invitiamo a venire a Ibla e scoprire l'eccellenza di questo prodotto tipico, simbolo degli Iblei. Noi puntiamo molto sull'eccellenza del prodotto enogastronomico anche legandolo al turismo esperenziale. L'iniziativa è organizzata con la partnership del Consorzio di ricerca filiera lattiero casearia di Ragusa e con il Consorzio ragusano Nodop. Noi riteniamo di avere un prodotto che è simbolo della laboriosità degli imprenditori, degli allevatori, dei caseificatori del nostro territorio. Siamo impegnati in un'azione di promozione su scala nazionale ed internazionale. Essere presenti a Ibla significa innanzitutto lavorare in casa, promuovere in casa, offrire ai tanti turisti, ma perché no anche ai ragusani l'occasione di capire quali sono i nostri sforzi e di ulteriormente apprezzare un prodotto che si sta distinguendo ai vari livelli. Al Corfilac è stato affidato il compito di predisporre i laboratori. I laboratori saranno dei laboratori che verranno tenuti presso alcuni ristoratori. Sono dei laboratori del gusto guidati dove quindi i turisti e i consumatori verranno guidati in una verticale, partendo quindi dal latte fino ad arrivare a Ragusano DOP ultra stagionato, insieme a degli abbinamenti, quindi che sono sempre di prodotti territoriali tra i quali abbiamo la birra di Iblon, i vini di Rudini e Planeta, quindi Nero Davolo e Cerosuolo, mentre il Grillo di Rudini e anche degli altri prodotti tra i quali la cioccolata di Modica che non poteva mancare perché cioccolato e formaggio insomma fanno venire un po' di allegria. Termina qui la nostra edizione di MTG, grazie per averci seguito, vi auguro buon proseguimento di giornata.